La parzelletta di Geppo Siamo in un locale, è sera Una coppia si sta conoscendo Lei molto carina, lui un bel tivo Sono seduti a un tavolo, a un certo punto facendo un po' di Di colloquio, lei fa Ma insomma, di che ti occupi? E lui serio gli fa Guarda, sono un trafficante di organi Dice così, lei fa Ma sei un delinquente? Ma non ce l'hai un cuore? Lui fa, sì, guarda, me ne arriva uno giovedì Dei gladiatori di dimensione Suono Roma Grazie a tutti